Nessun problema ragazzi, qua è tutto, sotto contro oggi siamo qui sul mio canale Oggi siamo in un nuovo video sui premi della Weekend League Sono mancati video per un paio di giorni, 3-4 giorni però Mi scuso di questo piccolo stop ma non ho avuto la possibilità di fare video Vabbè ma comunque sono pochi giorni Allora, è mancato appunto il ripilo quindi ve lo faccio velocemente in questo video, rapidamente Questa è la squadra con cui ho giocato la Weekend League Lo so che voi non la conoscete proprio però ho completato Marek Kamsik Appena uscito in pratica perché ho un paio d'ore e l'ho completato Cioè, non l'ho completato, un paio d'ore e l'ho iniziato a fare E poi l'ho finito durante la notte E' forte, è fortissimo Però non ti cambia le partite, diciamola così Più forte è un Yesus, un Bappe ovviamente Però comunque lo tengo, è molto molto forte Quindi, cioè, poi è il mio capitano quindi vabbè È inutile che ve ne parlo Comunque come vedete ho questa squadra Molto molto forte come squadra E il modulo non cambia quando inizia la partita Cioè, o rimango proprio così a giocare Oppure in base al modulo dell'avversario Cambio in 4-2-3-1, in 4-1-2-1-2 Poi vabbè, dipenderà dal modulo dell'avversario Comunque, quanto ho fatto in questa Weekend League Mi sono superato di nuovo Mamma mia, attenzione E ho fatto sì di nuovo Oro 2 Dopo che l'ho fatto 3 settimane fa, 4 settimane fa mi pare Non ricordo Comunque quindi, niente, abbiamo due pack mega rari 45.000 Ked in un pack rari Quindi due pack da 55, uno da 25 Più i soliti 45.000 Ked che sono sempre buoni Andiamo ad aprile L'AI ha regalato anche i pacchetti L'AI ha fatto un rimborso dei pacchetti Lunedì, mi sembra, sì E sono stato, cioè, o meno Mi ha dato di nuovo i premi di Oro 3 E poi sono stato fortunato che il giorno dopo Mi ha dato Me li ha dati di nuovo per un errore E comunque è successo a pochi E me li ha ridati E non me li sono conservati Me li ho aperti subito all'istante E ho fatto anche un po' di crediti Niente, partiamo col pacchetto Da 25.000 pacchetto rari Dai, speriamo subito in qualcosa di buono Non è lavagna Brutto, brutto, brutto Vabbè, ma dai, non fa niente Portogallo, addio Chi è? Gelson Martins Grande, Gelson Martins E allora, vabbè, niente Poteva andare meglio Ma pensiamo sempre che poteva uscirci Invece un 81 Un 76 E quindi poi ci curiamo Dal nostro desiderio Di buttarci giù da un palazzo Andiamo dentro con i pacchetti Da 55.000 Quindi andiamo subito col primo Vai, mega pacchetto raro Qua, ok, sì È lavagna, dai Speriamo in qualcuno di decente Germania Dici Mustafi Ok, vabbè Ci ho sperato, dai Ci ho sperato Imbatengo Umels Però vabbè Va bene Mustafi Va bene Mustafi E Icardi Icardi a Mustafi Marlos Scamp Berardi Vietto Vabbè Platten Aldumete Poi tanta gente Orrenda Con se vabbè 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 Quarta divisa del Real Madrid Quella là Che hanno creato No, non costa un cazzo Dai Costavano un botto Prima Vabbè Dai La scartiamo E mi ha dato Rugani Doppione Tra l'altro Ho trovato nel pacchetto Di prima E mi ha dato anche La divisa della Juve Che ho scartato Allegramente Vabbè Rugani dai Non andiamo alla lista Dei trasferimenti E poi qua Deve di scartare tutto Perché vabbè Tanto Non ci serve niente La Maya delle Real Madrid Pensavo che costasse qualcosa Ancora come quando è uscita Ma era impossibile Qua non ci sarà nessuna lavagna E invece c'è E invece c'è Vediamo chi c'è Vediamo chi c'è Svezia C'è oggi Forsberg Vabbè Rotto il cazzo Forsberg Mi sono uscito tre volte Stasettimana E vabbè Vabbè Pensiamo che poteva andarci Peggio sempre Pensate a questo Sabitzer Tanta gente Orrenda Come al solito Prendiamo Sto agente I cambi ruolo Gli infortuni Niente cose della Juve Ok 2.83 Però dai Dai ci possono stare Conserviamo tutto questo Nella strasferimenti E questo direi Di scartarlo Si sono tutte divise E Oggetti del club Inutili Là lo staff E vabbè Niente ragazzi Questo era il video Dei premi di Weekend League Prossimamente I Toti E quindi Questa è la mia squadra Datemi consigli Con i crediti che vedete Là in alto E niente Vi saluto e vi guardo Che non c'è nessun Prima che è tutto sotto controllo Bella ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti